video ripresa in full hd con lgq7 saranno 50 gradi su sto balcone costretto in casa fino alle 3 e mezza a aspettare il corriere siccome hanno sbagliato a metterli in dirizzo mi tocca aspettare a casa sperando non mi bidoni ok entriamo leggermente più fresco ma neanche più di tanto c'è poca luce penso che si veda anche qui poca luce spostiamoci in sala andiamo verso il nostro bel batik e basta così grazie a tutti grazie a tutti